Se ci vuoi raccontare che cosa sta succedendo oggi? Oggi sta succedendo un flash mob in cui si danno volantini di informazione a persone perché domani si farà un'iniziativa davanti al cantiere per parlare appunto dei nostri diritti, dei beni comuni, della salvaguardia dei beni comuni e contro l'ipocrisia della Green Economy. E quindi abbiamo fatto un campeggio sulla Nata in cui i vari movimenti, i comitati si sono potuti incontrare e si stanno incontrando per discutere tra loro anche una strategia da porre in atto contro questa predilificazione dei nostri diritti e delle nostre praticamente basilari condizioni di vita che sono l'acqua, l'aria, la terra che stanno scopriando in una maniera subdola e molto negativa per tutta la popolazione e tutto il genere umano. Quando è l'appuntamento davanti alla centrale? Davanti alla centrale domattina alle 10 e si terrà un'assemblea in cui si parlerà.